Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti E adesso vi mostriamo queste belle foto di Francesca Ferragni, ovviamente sorella di Chiara e a sua volta imprenditrice digitale. Si è sposata con l'imprenditore Riccardo Nicoletti dice la stessa Francesca che all'inizio non sapeva decidersi sull'abito da sposa dato che aveva appena partorito e di Chiara Ho provato tantissimi abiti, tra cui uno molto semplice, ma secondo mia madre e Valentina non mi valorizzava abbastanza Francesca Ferragni e l'abito da sposa Alla fine come potete vedere la scelta è caduta su un abito da sposa in pizzo con lungo strascico. Il vestito stesso è personalizzato con manicotti ed è trasformabile. Infatti via la gonna diventa una un abito da sirena. Infatti la stessa Ferragni aveva dichiarato a Vogue Sarà una sorpresa perché credo che le persone mi immaginino un po' più semplice e questa creazione è veramente d'impatto Grazie a tutti.